Allora eccoci qua il 25 agosto e in arrivo una bella patch come sappiamo per Rainbow Six Siege e andiamo a vedere cosa comporta questa patch dunque abbiamo visto che è una patch diciamo implementata specialmente diciamo sui fucili a pompa quindi cosa succederà? che nei fucili a pompa i danni... Ciao a tutti dal vostro Aluc e bentornati sul mio canale visto che ci sono molte persone che stanno arrivando su Rainbow Six Siege ho deciso di trattare alcuni argomenti per fare in modo che tutti possano migliorare il proprio modo di giocare Rainbow Six Siege è un gioco molto... Ciao a tutti e bentornati sul mio canale un saluto dal vostro Aluc oggi siamo tornati nella rubrica dei gradi di Rainbow Six Siege oggi parleremo del grado argento sfociando nei livelli bassi dell'oro per questo video lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e condividete a tutti condividete il più possibile perché qua le guide si fanno interessanti Ciao a tutti e bentornati sul mio canale un saluto dal vostro Aluc oggi abbiamo le prime novità su Operation Chimera e i nuovi due operatori se volete saperne di più lasciate un bel like e condividete questo video a tutti i vostri amici benvenuti nell'anno 3 di Rainbow Six Siege il nostro continuo supporto consente agli sviluppatori di creare nuovi contenuti e sono entusiasti di rivelare ciò che bolla in pentola ok dopo quella cazzata che ho fatto ho fatto che è arrivato a diamante delle cose da dire da luce cioè ti ho visto osservare e crescere avevi 102 iscritti e ora sei salito a 100.000 sono molto felice da questo traguardo inimmaginabile e secondo me ti invidiano tantissimo i tuoi haters per questo lascano dislike ovviamente cazzo ti vedo e ti seguo ogni giorno eh porco di un anno e mezzo è tanto eh fattolo di eh visto che commento poco se vedi i miei commenti a me lo rispondi vabbè le hai risposti tutti ovviamente sei un grande alluce a me lo rispondi a me lo rispondi